E quindi a questo punto direi di aprire i lavori passando la parola al nostro Bruno Mancini che illustrerà le attività dell'Associazione Vila. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e grazie per essere presenti a questo evento che è stato voluto e realizzato dall'Associazione Culturale del Paese dell'Arte, Vila. L'Associazione è stata costituita esattamente tre anni fa, però domani stanno con tre anni, per realizzare una figura che è in grado di poter continuare i nostri progetti, i progetti che ho fatto inizialire in qualche modo, se la portano avanti da dieci anni, anche come rappresentanza a livello istituzionale. In questi dieci anni abbiamo realizzato circa dodici antologie, abbiamo presentato tre volte i nostri libri qui a Tuck City, alcuni centinaia di autori, molte centinaia di autori artisti di ogni tipo sono intervenuti nelle nostre attività. e quindi abbiamo deciso di continuare su questa strada. L'abbiamo fatto tutto senza neanche un soldo, una riva, nulla di contributo pubblico. E tanto meno abbiamo chiesto mai qualche tassa di istituzione o qualsiasi tipo di intervento economico per poter gestire l'Associazione. Come l'abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché abbiamo inventato qualcosa che in Italia non è mai stato fatto prima, la pubblicità all'interno dei volumi di antologie. Cioè noi siamo in Italia, probabilmente anche in molte altre parti del mondo, dove i nostri libri, la nostra antologia all'interno contengono delle pubblicità. Il che significa che le aziende ottengono un beneficio di granuta superiore a quello che normalmente si può immaginare con delle brochure, con dei defiammi, delle cose del tipo. Mentre noi siamo riusciti a stampare qualcosa come 20.000 copie nei nostri volumi. Se pensate che 400 copie di un volume antologico, poetico, in qualche modo diventa un best server, abbiamo già dato un po' di indicazioni. Questi 20.000 volumi sono stati messi a disposizione e raggiunta di circa 8 milioni di utenti l'anno, li abbiamo distribuiti sui puntale donali della porta lavora di navigazione del Mediterraneo, per ogni anno. Quindi c'è stata una capitalità, una distribuzione, anche quello che ovviamente sono stati gli interventi che hanno fatto gli autori, sia a livello web, sia a livello personale, di promozione, diversa antologie, anche soprattutto per la sponsorizzazione che noi in qualche modo ci siamo vicini dell'occhezza. E continueremo su questa falsa vita, perché in effetti i risultati ci saranno da due ragioni. Certamente è stata un'idea ardita, perché accostare pubblicità e arte, però essere arditi non è una domanda, probabilmente. E qui a Milano è la giusta piazza di poter promuovere questo tipo di attività, perché è una piazza dove esiste forti, che è il senso di commercio, le imprenditorie, e anche per allevati. Siamo qui per salutarvi e per far dire un po' i nostri progetti e i nostri autori. Grazie.